54 e caput! La pedalata di Fiorenzo è quella dell'atleta superiore. Scott è rientrato in gruppo, sono in 17 contro 1, ma qui risalta la freschezza della maglia rosa. Un volatone iniziato da lontano per evitare sorprese. Tutti battuti! La sorpresa della folla si muta in ammirazione. Gli occhi di Fiorenzo brillano di gioia e di commozione. Altro che fiori hai meritato oggi. Vi ci vorrebbe un monumento. Grazie a tutti! 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 Ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!